il mio nome è lorenzo dovesi sono il direttore operation di miroglio fashion miroglio fashion è un'azienda che produce abbigliamento femminile a diversi marchi al proprio interno sono motivi oltre fiorella rubino più elena mirò caractere diana gallesi per te vai cristia e luisa viola i motivi per il quale questa azienda alcuni anni orsono ha deciso di approcciare la tecnologia del 3d sono tanti il primo sicuramente la facilitazione di tutto quello che è il mondo della progettazione e l'accorciamento del time to market secondariamente anche a portare un supporto qualitativo a tutto il processo creativo naturalmente nella misura in cui questo questo strumento ha portato un beneficio al mondo creativo ne è derivato un beneficio anche per il mondo industriale nel senso che ci sono ridotti gli sprechi sul mondo della progettazione e quindi il numero di prototipi si è ridotto perché il designer arriva più velocemente a individuare quella che è la soluzione per lui congegnare grazie al 3d su determinate categorie merceologiche abbiamo potuto cominciare a dare visibilità al mondo delle vendite di tutta la variantatura della collezione cosa che naturalmente ne ha reso più accessibile la comprensione e anche più facile la vendita dopo i primi anni di utilizzo di questo strumento sicuramente il bilancio è più che positivo abbiamo diciamo esteso l'utilizzo dello strumento a diversi dei nostri marchi io sono valeriano farnetti sono responsabile sviluppo prodotto nell'ambito supply chain all'interno di mio olio fashion da 15 anni ormai sono anche responsabile diretto di quello che è la modelleria nell'ambito dei marchi premium abbiamo scelto di implementare clo nell'ambito di mio olio fashion perché abbiamo ritenuto essere un software di CAD 3d molto intuitivo e facile da utilizzare si integra molto facilmente con i sistemi CAD preesistenti all'interno dell'azienda attualmente clo è stato implementato prettamente nell'ambito della modelleria con il chiaro obiettivo di estendere questa tecnologia a tutti quelli che sono gli altri abiti aziendali in particolare nel nella parte styling mi chiamo manassero daniele sono modellista 2d e 3d lavoro in mio olio fashion dal 1982 ho cominciato a lavorare con clo circa tre anni fa e fin da subito ho visto dei grossi vantaggi e le potenzialità di questo software clo permette di discutere con lo stilista per esempio le proporzioni di lunghezze che potendo vedere queste simulazioni su degli avatar che hanno delle misure fisiche che sono quelle della nostra cliente permette anche di realizzare dei motivi con delle proporzioni più corrette fin da subito abbiamo visto una riduzione dei rifacimenti del 90 per cento ma fin dai primi tempi insieme con lo stile con cui lavoro fianco a fianco si approfondisce lo sviluppo del prodotto a livello di variantature di posizione di grafiche e quant'altro una volta che il modellista ha montato il primo progetto grezzo lo stilista può eventualmente subentrare e dare sfogo alla sua creatività ad un costo praticamente zero può vedere il suo capo che ha pensato magari una fantasia in più fantasie in più varianti con più stampe Grazie a tutti